Bentornati a SIAE Raccontamici, oggi ospite con me Matteo Fedeli, direttore generale di SIAE che ha avuto diciamo un'ascesa incredibile ed è anche uno dei motivi per il quale io mi trovo qui oggi. Allora tu nel 2014 sei direttore musica e poi diventi direttore generale. Perché credi che SIAE abbia deciso di investire su di te comunque una persona giovane che ha fatto un percorso, c'è anche diciamo una storia di meritocrazia in qualche modo? Ma sicuramente c'era voglia di cambiamento, quindi ovviamente l'essere più giovane in qualche modo ti porta anche ad avere idee nuove, innovative e ad avere una forza, un'energia diversa probabilmente anche per provare a utilizzare queste idee per cambiare veramente la società. Tra le due forse la scommessa più grande che hanno fatto paradossalmente è stata quella del 2014 perché io lì trentenne entro in un universo che sicuramente era molto complicato e cerco di portare innovazione. Il passaggio poi al direttore generale sicuramente mi ha dato un valore completamente diverso per la società però in quel momento ero una persona che aveva già portato dei risultati alla società quindi aveva un track record che gli permetteva comunque di dire va bene super scommessa, il direttore generale più giovane della storia però è una persona che ci ha dato una certa affidabilità per portare quei risultati. diciamo è stato più disruptive il tuo ingresso in CIA in qualche modo. E in che modo CIA ha deciso di innovarsi e si sta innovando? La cosa, io entro nel 2014 e uno dei mandati che mi viene dato era proprio bisogna cambiare bisogna fare le cose in maniera diversa. Io entro in una società nella quale il borderò per chiunque sappia che cos'è il programma musicale bisognava compilare come una manuenze tonnellate di pezzi di carta a tre erano un milione e quattrocento mila all'anno quindi era tanta roba c'era quello, c'era il deposito cartaceo devo dire che il modo più semplice per rinnovare in CIA nel 2014 era andare in giro per i magazzini a prendere le montagne di carta quindi quella montagna più grossa di tutte, i programmi musicali, ok quello è un problema. depositi, anche questo è un problema gigantesco quindi partendo ovviamente dalla digitalizzazione nel 2014, presto, tardi, meglio tardi che mai, era sicuramente un ottimo driver per capire quali fossero le cose che effettivamente andavano fatte in quel dato momento storico. Quanto meno gli alberi ringraziano direi. Sicuramente sì. Un milione di borderò sono parecchi. Diciamo che nella storia della discografia gli ultimi dieci anni hanno segnato secondo me un cambiamento repentino cioè il fisico ha assunto una connotazione completamente diversa rispetto a prima la digitalizzazione della musica è pressoché totale in questo momento e di conseguenza anche il vostro modello di seguire la collecting è cambiato no? Quindi in che modo avete investito sulla tecnologia per seguire questo cambiamento nel mondo della collecting? Beh, considera che nella storia di SIAE i cambiamenti tecnologici sono stati paradossalmente tanti. Quello che sta succedendo è che si comprime la generazione della tecnologia. Cioè immaginate che SIAE nasce il 1882 senza il grammofono e senza la radio, senza la tv. Quindi queste cose sono già successe. Quello che sta succedendo però è che diventa sempre più compresso il tempo che hai per capire il nuovo modello di business e per capire come gestire sopra l'intermediazione. Cioè 2001 nasce iTunes con i download, poi diciamo viene più o meno soppiantato da Spotify. Oggi sono tutti temi legati ai social, quindi modalità di remunerazione che sono sempre diverse. Quindi quello che bisogna fare è prima di tutto investire sulla tecnologia per capirla. Cioè è un tema proprio di competenza e comprensione. Quindi come funziona questa cosa se tu non sai è un tema veramente complicato. Ad esempio poi nella comprensione uno capisce il download in realtà è stato molto meno disruptive per il nostro modello di business ma direi anche per il mondo della musica. perché in realtà avevo digitalizzato l'acquisto di una perpetuity, cioè da un punto di vista economico. Compro una cosa, la posso ascoltare tutte le volte che voglio. Il modello di streaming, io ho diritto all'accesso, 9,99. Ad esempio chi ti dice che 9,99 sia più o meno del valore della singola utilizzazione della perpetuity del disco o del download? Visto che abbiamo parlato di innovazioni tecnologiche, ci vuoi dire quali sono gli strumenti tecnologici oggi a disposizione di un autore per poter visionare e soppiantare tutto quel cumulo di carta che c'era prima diciamo. Ma allora lì diciamo che per soppiantare il cumulo di carta la cosa importante era concentrarsi sull'interazione tra l'autore e la società. Quindi l'app CI Plus ad esempio per noi vuole essere proprio il cardine per dare all'autore uno strumento unico nel quale effettivamente ha un'interazione con la società che sia semplice. Per fare un esempio, da una parte c'è il deposito che oggi si può fare sicuramente con riconoscimento biometrico e non bisogna più firmare un pezzo di carta e spedirlo via raccomandata. Dall'altra parte sembrerà una banalità ma noi nel 2016 per cambiare le proprie coordinate bancarie per essere pagati da CI che dovrebbe essere il minimo sindacale o il numero di telefono al quale doveva essere chiamato andava mandato un fax. Quindi diciamo l'evoluzione tecnologica è stata dare uno strumento che permettesse alle persone da casa soprattutto i giovani autori, quelli che non hanno, perché poi tendenzialmente i grandi autori, gli artisti importanti hanno qualcuno che gli segue queste cose. Quindi giovani autori invece tutti quei soggetti per i quali hanno una scorciatura, mi devo andare a iscrivere a CIA a Roma oppure devo andare in una sede territoriale a portare tutto il plico. Magari per qualcuno era interessante e stiamo ragionando anche su fare un'iscrizione su carta pergamena, te lo do, è bello, qualcuno vuole il pezzo di carta, gli altri invece è semplicemente una scorciatura più uno gliela rende semplice e più effettivamente gli sta semplificando la vita lasciandogli poi il tempo per fare quello che devono fare ovvero scrivere perché poi alla fine de facto è questo, quindi semplificare l'interazione attraverso una digitalizzazione che era ti direi expected e probabilmente dovuta agli associati diciamo post anno 2000 quindi già siamo arrivati un po' in ritardo però meglio tardi che mai. Oggi tra l'altro la nostra app è recensita anche abbastanza bene, negli store ci abbiamo un 4.7 su iOS, su 5, 4.7 su 5 siamo tutti sopra Spotify e Netflix quindi vuol dire che la gente è anche abbastanza contenta di come sta funzionando. Ringrazio Matteo Fedeli per essere stato con noi e ci vediamo alla prossima pillola di Si ha e racconta.